Informare e formare e prevenire incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga. Parliamo di un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dal Comune di Pesaro in collaborazione con Prefettura, Questura, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Università di Urbino e il Comitato Croce Rossa di Pesaro. Vuole sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale, dei poricoli che si corrono magari facendo uso di sostanza o esagerando con gli alcolici. È un progetto a tutto tondo che in qualche modo coinvolgerà le scuole, gli artisti e avrà una sua giornata finale al Parco Miralfiori. Ci auguriamo di avere in questo periodo di interventi tanti ragazzi che parteciperanno con entusiasmo e che riusciremo poi tutti insieme a trasmettere un messaggio positivo. Il programma prevede incontri con gli studenti, cineformo, la presenza dei familiari delle vittime di incidenti, simulazioni di guida in stato di ebrezza, posti di controllo formativi e contest creativi. Be Responsible, il progetto presentato nella giornata di ieri, lavorerà sull'informazione e sulla formazione rivolgendosi a 1100 alunni di 7 istituti del territorio. Questo progetto che è un progetto di tipo integrato ritengo abbastanza innovativo perché va sul campo esperienziale, cioè vogliamo suscitare una reazione in questi studenti e una riflessione, come dicevo prima, per alzare un po' lo sguardo su quello che possono essere le conseguenze delle nostre azioni. In questo caso mettersi alla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Studentesse e studenti saranno sia destinatari di una campagna di comunicazione che attori protagonisti di due contest. Uno prevede la realizzazione di un cortometraggio, l'altro l'ideazione di un murales. I migliori elaborati saranno premiati con un contributo fino a 1500 euro utili per le spese della patente di guida.